Io sono Cinzia Dezzi e ho ricevuto il premio Luigi Malerba 2017, l'ottava edizione di questo premio dedicato al scrittore di Berceto, che possiamo considerare il capostimite della scuola emiliana di scrittura. Il mio romanzo si intitola La Smania, verrà pubblicato dalla casa editrice MUP, Monte Università Parma. L'ho scritto nel 2015, nell'anno in cui ho frequentato Bottega Finzioni, la scuola di scrittura creativa di Carlo Lucarelli a Bologna, sotto la direzione di Paolo Nori. Con lui in quell'anno ci siamo occupati di parlare, di trattare, di scrivere un romanzo pseudo-autobiografico. Ci ha dato vari modelli, prima cosa abbiamo cominciato con le letture, quindi Il Serpente di Malerba, poi Bukowski Post Office e poi mi sono ispirata per scrivere questo romanzo anche a Georges Perec, Un uomo che dorme, e Il soccombente di Thomas Bernard. Il libro di cosa parla? Il libro è un romanzo breve ed è la storia di questa ragazza che parte per un volontario esilio parigino dopo aver abbandonato la compagnia di teatro con cui aveva lavorato per molti anni e poi siccome si ritrova in un paese di cui non conosce la lingua, deve impararla da zero, cominciò a fare dei lavori manuali dalla gelataia a detta al fast food fino ad arrivare ad una biblioteca e queste quindi sono le avventure di questa figura che può assomigliare a una delle galline pensierose di Malerba. Ecco, lei è rimasta contenta dell'accoglienza ricevuta a Berceto e che impressione ha ricavato di questo paese? Sono stata molto contenta dell'accoglienza ricevuta a Berceto, appena sono scesa dalla macchina c'era un'aria di montagna fresca e frizzante e i colori dell'autunno nel giardino, tutto intorno al municipio, è un pubblico molto caloroso.